salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti bene oggi voglio raccontarvi di questo video che avevo fatto circa dieci mesi fa per quanto riguarda connessione internet 5g della wind in questo video spiegavo appunto come avevamo fatto i collegamenti l'antennina esterna della ZTE come era messa e dove andava posizionata il collegamento tra l'antennina e il nostro modem router che abbiamo all'interno della casa e poi avevo fatto di speed test con delle connessioni che tutto sommato erano più che soddisfacenti benissimo da questo video sono nati tanti commenti tante diciamo delle domande che mi fanno anche crescere e ringrazio tutti quanti quelli che hanno commentato e hanno visto il video e oggi voglio darvi delle risposte precise in base a quello che avevamo fatto in questo video allora la domanda principale che tante persone mi hanno fatto è se questa connessione soddisfa una famiglia bene adesso io vi metto il video di mio figlio che sta guardando un video su disney plus qui abbiamo il nostro computer che collegato su youtube in 4k il tablet di mia figlia il cellulare di mia moglie il mio cellulare sempre connesso su youtube e poi il cellulare di mia figlia che sta guardando anche lei sempre youtube quindi faccio il caso estremo che tutta la casa che tutti quanti stanno guardando qualcosa in internet in risoluzione 4k e altro vado a mettere anche la mia tv su netflix sempre in 4k e così siamo a posto voglio fare un piccolo appunto se volete risparmiare su netflix se volete risparmiare su disney plus vi lascio il link in descrizione di un video che ho fatto che serve appunto per avere degli abbonamenti a prezzi assurdi cioè siamo dai 3 euro per un abbonamento di disney plus o 3,50 euro per netflix quindi andate a vederlo poi in caso cliccate sul link in descrizione e lì potete fare potete vedere come risparmiare appunto tanti soldini che per una famiglia sono molto molto importanti bene torniamo al nostro video che cosa ho trovato in questi dieci mesi e quali sono state le vostre domande oltre a vedere se riusciamo ad avere comunque una connessione sufficiente se ci sono stati delle pause durante il giorno oppure ci sono dei momenti in cui non si connette il nostro modem e quello la vi dico sì è vero perché abbiamo notato che alle 6 di mattina 6 6 e 10 c'è un blocco momentaneo della nostra rete wind a un certo punto non si connette è strano che alle 6 siamo svegli oppure però succede che magari a un certo momento ti serve qualcosa alle 6 di mattina non va però c'è anche un sistema per evitare questo e oltre a questo piccolo blackout che dura un 30 40 secondi c'è un sistema che io dico sempre di farlo ed è anche per quanto riguarda gli smartphone signori spegnete i vostri dispositivi una volta al giorno per dieci minuti è molto molto importante perché andiamo e ho fatto anche questo un video perché spegnere gli smartphone perché spegnere il cellulare il tablet il computer perché andiamo a resettarlo e anche lui si riposa come noi non andiamo a letto che ci riposiamo è molto molto importante fare questo e quindi ricordatevi di spegnere i dispositivi quando avete finito di guardarlo quando non li usate e se potete di notte lasciarli spenti meglio ancora più tempo poi un'altra cosa che mi è stata chiesta era appunto se ci sono dei vincoli si ci sono dei vincoli allora innanzitutto vado a fare il 5g solo se non sono coperto dalla fibra diciamo la fibra ottica e per quanto riguarda la connessione internet a filo quindi loro mi danno la possibilità di fare l'fva 5g ho il vincolo di 48 mesi voglio fare un piccolo una piccola parentesi questo video non è sponsorizzato da win vi sto raccontando la mia esperienza direttamente perché quello del vincolo ve lo dico perché ho un mio caro amico che si sta trasferendo e passa da una regione dal vento passa al friuli e adesso ha il vincolo cioè è per forza non può fare un trasloco deve fare per forza abbandonare il suo contratto anche perché lui aveva richiesto di passarlo dall'altra parte deve chiudere il contratto pagare la penale e aprire un altro da un'altra parte una cosa che a me non sembra molto giusta comunque vabbè sono regole che hanno la telefonia insomma benissimo e poi un'altra domanda che mi è stata fatta è se queste speed test che ho fatto sono costanti ma adesso voglio farvi un speed test in diretta ok quindi abbiamo tutti i nostri dispositivi collegati qui ne abbiamo 5 più dopo abbiamo la tv e il computer e voglio farvi uno speed test per vedere come va quindi vado dentro sull'app speed test magari vi faccio la registrazione dello schermo così potete vedere anche voi facciamo avvia registrazione 3 2 1 quindi adesso siamo in diretta vai e vediamo quanto va guardate 400 500 e qui non sono connesso direttamente al mio modem wind ma sono connesso a un router della fritzbox 630 640 questi sono i risultati 644 in download e adesso andiamo a vedere l'app vedete che il ping 62 è alto per i giocatori di io vedo che mio figlio gioca quasi tutte le sere online e non si è mai lamentato anzi mi ha detto papà funziona e noi siamo contenti e 40 in upload rifaccio il test per sicurezza vedete che sono connesso col wifi 6 rifaccio il test e qui riparte download molto molto alto 600 comunque sempre sui 600 620 635 addirittura ok adesso vediamo l'upload a me l'upload interessa tantissimo perché perché quando carico i video su youtube come questo che sto facendo in 4k se non hai la connessione che riesci a caricare ci vogliono tre giorni per caricarsi il video invece qui credetemi che in dieci minuti si carica un video di 20 minuti in 4k quindi una cosa veramente eccezionale in questo caso l'upload è stato di 59,1 benissimo poi altri problemi io sinceramente non ne ho riscontrati altri pro quando tutta la famiglia quando tutta la casa perché la casa un po' di domotica ce l'ha dalle videocamere di sorveglianza l'allarme le luci che si accendono esterne dal comando da remoto e per quanto riguarda la caldaia i climatizzatori che sono tutti collegati in internet quando tutti questi prodotti connessi in internet e che funzionano ma per dirvi anche la scopa elettrica che ormai è connessa tramite un'app o qualsiasi dispositivo Alexa eccetera cioè quando ho coperto tutto questo e tutto quanto funziona a me le speed test sinceramente non è che interessa più di tanto l'importante che tutta la casa funzioni e che sia veloce e che quando devo caricare i video funzioni tutto perfettamente bene signori ho voluto fare questo video proprio per portarvi dei dati reali per vedere come è andata dopo dieci mesi e per capire effettivamente come funziona spero sia stato interessante spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un super like iscrivetevi al canale non costa nulla basta premere il tasto iscriviti e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti arrivederci